Radio DJ è anche in podcast. On Demand. Dove vuoi, quando vuoi. Avete tutti paura del silenzio, eh? Quando la crisi si fa sentire, il popolo ha bisogno di non pensare. Volete ridere? E' per questo che nel 1940 producevamo soltanto commedie. Ma allora fu giusto così. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti. Con la testa china a fissare lo schermo di un telefono. In uno stato di coma perenne, depressivo, che vi impedisce di guardare ciò che accade intorno a voi. Siete senza sogni, in valia dei media sociali. Che vi rendono soli, invidiosi e pieni di rancore. Povertà, povertà infantile, povertà tra i giovani, povertà tra gli anziani, disoccupazione. Le nascite non sono mai state così basse. Stiamo correndo incontro all'abisso. Avete bisogno di un messaggio Whatsapp? Che vi avverta che stiamo sprofondando? Però, mamma mia, Luca... Vado, vado, vado... Quanto è bello tutto. Ehi, qua c'è, ehi! Felicità! Tu diciò! Oh, di nuovo! Eccola qua! Un'emozione che non sai descrivere. Non è mai... Che è successo, che è successo! Famiglia a te, perché ci stai, sul volto tuo, felicità... Buongiorno ragazzi, buongiorno, come state? Buongiorno... Oh, cari ascoltatori, Viola tu stai bene, visto che ti stiracchi... Benissimo, benissimo... La Stefi sta bene, con l'occhiale, con l'occhiale quest'anno. È la novità, Stefi, l'occhiale, o è un po' che... No, è un po' che... Comunque ti stanno bene quegli occhiali... È adatto anche al ruolo, perché tu ti si immagina sempre la ragazza in tailleur con l'occhiale... Chi si immagina? Io! Sei già tornato alle reference anni 80, la ragazza in tailleur... Il boom di ragazza, col tailleur, con la camicia, collo foulard... Si dice collo foulard, si chiamava collo foulard, se non sbaglio... Ah sì, quella che... Quella che è una camicia, che il collo è tutto aperto così così... Col tailleur, il tacco, con le lebouton lì, con la suola rossa, le lebouton... Uè, vanno lì che le lebouton... Cappello magari coda alta, coda alta... Lo chignono... Lo chignono, proprio la coda alta, come quelle che vanno a correre, che poi il cappello fa clic 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 clic... E occhiale... E poi tutto il resto sta nell'immaginazione del maschio in ascolto... Buongiorno ragazzi, sono le 9 e 10... E non abbiamo niente... Non abbiamo niente, diciamo... Cioè, non abbiamo niente... Mi sento te ieri, abbiamo un sacco di cose da raccontare... Beh io per esempio al 347, 3425220... Cioè, da quant'è che non siamo in onda? Dal 9 di giugno mi sembra... Tanto c'è stata una... Arrivendo e scherzando... Tanto senza far battute c'è stata una strage, perché io sono andato via... Cioè ogni settimana comunque moriva un importante, uno famoso... Tutti gli anni, eh, in realtà... E tutti gli anni diciamo... Questa è stata una strage... E io voglio sapere cosa avete fatto, in cosa siete diversi... Vi ricordate che io a ogni fine stagione dico sempre... Se vi ritrovo uguali a prima... Vuol dire... Mi incazzo... Allora... In che cosa avete imparato? Che cosa... Su di voi, eh? Stai lanciando un te... No, no, no... Buona mattina non ha temi... 9 e 1... No, però dico... Cosa avete imparato? Non so, magari non so... Eravate... Che ne so... Avevate dei difetti... Avevate dei difetti... Sì, molti... Una cosa su cui state lavorando... Devo incazzarmi meno... Devo essere meno geloso... Devo ricordarmi di pagare le bollette in tempo... Non lo so... Una cosa che devi dire... Oggettivamente sono migliore di giugno... Allora Maurizio ha detto... Ho imparato un sacco di cose... Sì, quest'estate ho imparato tanto... Eh, vedi... Vedi... Ogni tanto mi mandava dei messaggi... Sulla biografia di Yogananda... Capitolo 43... Ho capito l'universo... Eh no, madonna Maurizio... Capitolo è incredibile... Ragazzi, mi spiace solo una cosa... Io potrei fare 20 ore di radio... Ovviamente, stando via... Ma le cose più belle... Che vorrei condividere... Non si possono dire in radio... Cioè, le posso dire solo... Face to face... Davanti a una birra... Davanti a un... A un moscomiule... Non ti auga censurare... Ora si può dire tutto... Sì, no, ma queste sono cose... Che non si possono dire... Peccato... È un peccato... Attivo... Adesso appena parte il disco... Allora ragazzi, ci volete dire... Siete migliori... Siete... Avete imparato qualcosa... Posso dirvi... L'anno scorso abbiamo fatto una stagione... Dove volevamo portare un po'... Non dico di spiritualità... Però un po' di attenzione all'interno... Ecco, mettiamola così... L'attenzione all'interno... C'è tutto ciò che accade dentro di noi... Le nostre emozioni... Così... Quest'anno... E... Ce ne frega niente... Esatto... Cioè, quest'anno chi siamo noi... Forse lo slogan di quest'anno potrebbe essere... Ma chi siamo noi... Per dire a voi... Cosa è giusto o non è giusto fare... Wow... Non è un liberarsi da una cosa... Dopo anni del voler condividere dei pensieri... Ma chi siamo noi... Per dire a voi... Cosa vorrete fare... Lo slogan mio... 2023-2024... Stagione Radio DJ... Ma nella vita... Qual è? Ah, io quest'anno voglio godermela... Me la voglio proprio godere... È il 4 settembre... Vediamo che non succeda niente di male... Perché quando appena uno lo dice... Ti cade un frigorifero in testa... Lo slogan mio è questo... Non me ne frega un... Eh... Esatto... Allora... Stavo dicendo... Prima sono entrato da Francesco con la Stefano... Secondo me quest'anno inizio... Ricomincio a fumare... Sì... Ho una sensazione... Ho una sensazione... Mi sono visto davanti a un bar sul marciapiede... Che mi rollo la mia sigarettina... Quella di col tabacco... Che è meno chimico... Che dico... Ciao... Sei Fabio Volo... Dico... E mi sono... Una mia sigarettina... Sì... Fabio Volo... Mi devi chiedere qualcosa... No... Ho sentito che hai parlato quella volta... E disse... No... Guarda... Ma chi sono io? Per dire a te... Ci devi fare... Ciao... Ognuno sta nel suo... Ciao... Comunque... Ti cambia anche la voce... Sì... Sì... Perché la sigaretta ha seguito... Com'è stata l'estate Radio DJ? Ragazzi... Cosa ci siamo persi qua? Ehm... Chi c'era sera? Vi manca già qualcuno? Chi c'era sentito? Esatto... No... Ci siamo noi adesso... Ragazzi... Non ci rompete i maroni... Vi voglio regalare questa immagine... Vetrata di un locale bellissimo... Che mi segue su Instagram... L'avrà visto... Comunque stai parlando velocissimo... È vero... E poi... Eh... Perché sono eccita... Sono contento... Ma non sarà così... È ancora il primo intervento... Non sarà così tutto l'anno... Infatti risparmia l'energia... Perché... A voi chi sono io? Per venire a dire a voi... A dire a voi... Allora ragazzi... Vi devo dire... Mi sono successe delle cose divertenti... Sì... Vetrata... Da Brooklyn vista New York... Tutta illuminata così... Vado in bagno... Mi lavo le mani... Faccio la BP... Ovviamente ammiro tutto quello che devo ammirare... Incredibile... Incredibile... 51 anni... Guarda com'è bello ancora... Bello bello proprio... Con quelli che fanno la BP a fianco... Che buttano l'occhio... Perché vedono questa luce uscire... Come... La valigetta... Come la valigetta di Pulp Fiction... E dicono... Ma anche estero... Ma c'è una lampadina... Dico... No... Lui è così... Vive di luce... È energia... È energia vibrante... E a un certo punto esco dal bagno... E quando entro nel salone... Dove sta... C'è questa canzone... E io ero convinto... D'avessero messa per me... Ed ha un po' di coolness... 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 Quest'anno è... Vediamo un po' di coolness... Ok... Dai mettiamo il primo disco... Dai... È vecchia ma è bella... Ok... Che casino... È coolness... We got the refugees... Ah... Mettima la palla... Stai ascoltando il podcast del volo del mattino... Il volo del mattino... Allora... Vedi quanta gente che ha scritto che ha imparato delle cose... Ha imparato che non si può piacere a tutti per esempio... Eh... Si può piacere... Allora... Invece di cercare di tirare sul vostro umore... Devo prima lavorare sull'interno... C'ho da lavorare su Viola... E su Maurizio... Soprattutto su Viola... E Viola ha perso il meaning... Come si dice... Il senso... La... La... No ma forse che devo carburare anche io... Eh... Sono quelli che partono... Come quelle squadre di calcio... Che partono un po' più lente... E poi dopo però... Si parte in sordina... Noi sulla lunga... Sì... Sulla lunga distanza... Poi un po' di calcio... Ne parliamo... No no no... Anche perché... Vabbè è un anno così... Non sarà molto divertente... Nel senso che lo scudetto va giù... Va giù... Va giù... Dallino Senicola... Cioè se lo giocano loro due... Lo scudetto... Cioè... Prima puntata... Il volo del mattino... No non vogliamo parlare di calcio... Non vogliamo parlare di calcio... Da... Lo fingiamo per un po'... Avevo tante cose divertenti... Da volervi raccontare... Eh... Dovevo... Faccio fatica... Perché lo studio qui... Devo tirare su l'allegria dello studio... No allora... Poi chi sono io per... Allora... Secondo me... L'approccio chi sono io per... Eh... Non ci piace... Potenzialmente letale... È letale... Chi sono io per... È proprio nichilista... Ah nichilista... Ok allora sono io... Oh vi devo dire... Ho visto un film l'altro giorno... Allora eravamo... Passeggiavo per... Per New York... E a un certo punto vedo in questo posto... Che fanno un film che si chiama... Io stavo finendo il libro... Ok stavo... Quasi finito il libro... Ci siamo... Quindi mi alleggerisco molto... Sì... Per quello che mi sono... Mi sento più leggero e... E voglio solo godermela... E passo e vedo questo film che si intitola... Aristotele e Dante... Discover the Universe... Non con questo accento però... Cioè... Aristotele e Dante scoprono l'universo... Quindi salto temporale tra Aristotele e Dante... E tu dici... Mazzola Dante... Io ho la tua filosofia... Dante... Faranno la Divina Commedia... Poi penso... Magari la recitano in italiano... Cioè comunque nella lingua di Dante... E quindi io la so... Sono avvantaggiato... E disinvolgare... Esatto... E quindi dico alla ragazza... Allora sai... Quando tu leggi la Divina Commedia... Dico a quella ragazza lì... Che ragazza... A la reception lì così... Perché era un... Non era il cinema... Il cinema... È un club diciamo... La so house... Allora dico alla ragazza... Allora veniamoci... Allora dico alla ragazza... Allora so house... Sai... Io sono italiano... Sai Dante è una mia grandissima passione... Ne parlo sempre anche nel mio programma alla radio... Tutti i pipottori... Quindi filosofia... Le cose... Fantastico... Poi Aristotele... Chissà... E poi... Non è che quando tu leggi la Divina Commedia... La capisci... Cioè bisogna... Perché non è una lingua... Non è l'italiano... Ti spiego tutto... Faccio un pipottone così... Quindi questo alla reception... Questo alla reception della ragazza... Perché lei mi è simpatica... Sì perché... Mi diceva... Tu sei quello che porti sempre... Le persone con il weird... Con i nomi difficili da fare spelli... Perché sono tutti i nomi italiani lunghi... Vabbè insomma... La faccio... Chiamo il mio amico italiano... Che vive là... Che fa il biologo intelligente... E dico... Tu sei il mio amico intelligente... Vieni a vedere con me... Dante... Aristotele... Che scoprono l'universo... Cioè lui poi sta lì tutto il giorno a... Col microscopio... Col microscopio... Fantastico... Quindi andiamo... Premessa... Quando tu sei italiano a New York... I primi anni... Adesso un po' meno... Ma i primi anni... Quindi vent'anni fa... Io le ragazze dovevo dire... Non sono gay... Sono italiano... Perché l'italiano... Per l'americano... Spesso viene confuso... Perché comunque abbiamo la sciarpetta... Abbiamo la cintura... Abbiamo dei modi... Rispetto a loro che mangia gli hamburger... Cia lo cappellino... Ok... Questo negli anni ottanti... Questo negli anni... Adesso un po' meno... Quindi niente... Arriviamo a... In questa saletta... Insomma... Dante... Inizia la prima inquadratura... C'è questo ragazzo che cammina nella campagna... E io dico... E dico... L'ha girato in Toscana... Che figata... Che figata... Sono lì dove è nato Dante... Quella è Firenze... E sarà lì dove fanno schicchia... Insomma... Dante... Aristotele e Dante... Scoprono l'universo... È un film gay messicano... Dove Dante e Aristotele... Sono due ragazzi... Adolescenti... Che scoprono in quell'estate... Che sono tutti e due gay... E il film finisce... Vedi? Su un cofano di una macchina... Ah... Ah... Tipo... Chiamami col mio nome... È una specie di... Break... 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 Montaigne... In versione messicana... Messicana... E il mio amico mi diceva... Ma sto documentario di Dante... Quando è che comincia? Quindi era Aristoteles... Aristoteles e Dante... Che hanno scoperto... Più che l'universo... Dove era sto film di... Eh... Messicano... Ah... Messicano... Eh... E la colonna sonora finale... Era questa... Eh... Eh... Esatto... 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 Insomma... Quindi è stato molto divertente... È un film che... Vi consiglio... Se volete vederlo... Ok... Quindi ripetiamo il titolo... Aristotele e Dante... Discover the Universe... Ah sì... Questo è il podcast del volo del mattino... Lo trovi on demand... E puoi ascoltarlo... Dove vuoi... Quando vuoi... Vedi abbiamo anche Valex... Che aveva fatto la foto al libro... Perché è tratto da un libro... Pensando che fosse appunto Aristotele... Invece è girato a El Paso... Sì... A El Paso... Ma che ridere... Quando è iniziata la prima inquadra... Te l'ho detto... Siamo in Toscana... È chiaramente Fiesole... Guarda Fiesole... Era El Paso... È il Paso... È Aristotele e Mendoza... Ma Aristotele e Mendoza... Scopre insieme a Dante... È un'estate... E il Paso dov'è? È il Paso... Cos'è? Messico... Messico... Eh sì... Eh... Tra l'altro... Voi ve lo ricordate... Quelli... Quelli di voi... Che hanno fatto l'amore... La prima volta d'estate... Io per esempio ho fatto l'amore... La prima volta d'estate... Ma il mondo si divide... Tra quelli che hanno fatto... La prima volta d'amore d'inverno... Più o meno d'estate... Cioè la primavera... L'autunno... Lì non si trova... Poi l'avete fatto d'inverno... D'estate la prima volta... Non voglio sapere con chi... Non voglio sapere in come... In che modo... Maurizio... Inverno nevicava... Ma stai zitto... Probabilmente per quello... Non so... Avete fatto l'amore d'estate o d'inverno? D'autunno... Autunno? Avevi detto basta... No no no... Steffi tu... Tu d'estate... Ok d'estate... Quindi vi ricordate... Io mi ricordo... Quando poi tu torni a settembre... Hai 16 anni... 17... 14... Quindi adesso dipende... Uomo fatta il figlio... Che dici? Che torni o dici? Oh! Dio di una roba! Cioè non... Mendo su famiglia! Sono pronto! E tu torni... E non vedo di dire a tutti... Oh re! Oh! Ho fatto l'amore! Ho fatto l'amore! Hai fatto l'amore? Hai fatto l'amore? Addio mio sì... Io vi ricordo sempre... Perché l'ho già detto... All'Iore de Marre... Forse io sono partito... Io sono partito dall'inferno di Dante... E poi sono risalito... Io sono partito lì... Dove c'erano gli inglesi ubriachi... Le birre... L'odore di patatine fritte... Il planet Hollywood... E ricordiamoci che in camera... C'era anche l'amica... Nel letto con sta ragazza... Nel letto non in camera... No no... Nel letto matrimoniale... Io con questa ragazza... Dal nome Deborah... E a fianco la sua amica Francesca... Credo che... Credo adesso da grande... L'ho rivalutata... Forse faceva finta di dormire... L'ho rivalutata... Cioè ho rivalutato la storia... La Deborah non l'abbiamo più trovata... Non l'abbiamo più trovata... Di Messina... Però in Spagna... Comunque... Avevo baciato la sua amica la sera prima... Non ero andato diciamo... E invece poi... Ok... Però secondo me lei faceva finta di dormire... Potrai... Eh sì... Comunque il letto si muoveva pochissimo... Cioè adesso io sono stato delicatissimo... Lo stretto necessario... Però faccio quello proprio che... Io ho fatto... Io ho fatto l'amore nel senso... Che il mio obiettivo era quello poi... Di tornare dai miei amici a dirlo... Non mi interessava l'atto in sé... L'atto in sé... Lei infatti non si... Io sono fatto... Ho parcheggiato un secondo... Poi sono uscito e ho detto... Fatto... E poi sono andato dai miei amici di corsa... Sei bravo... Ragazzi... Papà sono l'amore... Sono un uomo... Sono maschio... Addio... I programmi di Radio DJ sono anche in podcast... On demand... Dove vuoi... Quando vuoi... Due lippa... Due, due, due lippa... Due lippa Radio DJ... Dance the night... Dance the night... Qualcuno qua ci chiede... Ma ci saranno... Ci sarà... Vogliono sapere... Se ci sono delle grandi novità... Non ci sono novità... Noi come se fossimo andati in onda fino a ieri... Ragazzi... Non vogliamo neanche quel... Grazie dei messaggi... Bentornati... Bene... Grazie dell'affetto... Va benissimo così... Non ce ne siamo mai andati... Sentiamo un vocale... Perché quest'anno viola... Un vocale... Un vocale... Che non mi voglio appoggiare troppo... No... Perché ormai adesso si appoggiano... Adesso si appoggiano tutti... Vero... Ragazzi... Non so se vi siete accorti... Cari ascoltatori... Che noi che facciamo questo lavoro... Ci stiamo appoggiando tanto su di voi... Lo sentite che vi stiamo appoggiando... Sdraiati sugli allori... Neanche seduti... Lo sentite che vi stiamo appoggiando su di voi... Che lo stiamo appoggiando il vocale... Ecco... Non fate... Adesso noi dobbiamo fare un po' meno... Torniamo alle vecchie telefonate... Esatto... La telefonata con l'ascoltatore... Ciao... Come stai? Una conversazione... Tutto la... In tutto l'anno scorso non abbiamo fatto una telefonata... Allora... Io ho la mia editor... Quella con cui quando scrivo il libro mi confronto... Poveri... Poveri... L'Alessandra che mi ha tolto i pippottoni... Qualcosa ha lasciato... Ma va... Qualcosa ha lasciato... Poi mi ha rimandato il file... Mi ha detto... Io questi li toglierei... Perché lei fa questo di lavoro... Mi suggerisce... Io questi li toglierei... Io dico... Ma proprio questi su Dante... Su... Ma proprio questi... Su Dante Aristotele... Ma proprio questo sulla ricerca di sé... E lei mi dice... Duco io... Ma questo è necessario... Alessandra è necessario... Esatto... Allora... Aspetta... Allora a un certo punto... Però lei odia i vocali... Che è la cosa dove... Io invece dico... No... Lei mi dice... O mi telefoni... O se tu ti metti e scrivi... Io ho il vocale e il diavolo... Miche... È faticoso... Basta... Anche nei Whatsapp... Basta vocale... Io ora ti faccio sentire quattro messaggi... E poi basta fino a giù... Scusami... Avete già fatto il video su Whatsapp a cerchietto? Avete già fatto il video... Avete visto adesso che Whatsapp fai video a cerchietto? Cioè che dentro un cerchio... Il video è... È in un cerchio... Tipo uno specchio rotondo... Sai uno specchio... Cioè tu ti fai il video... Il video di Whatsapp... Sì... Non esce più tutta la... La facciata... Sembra una bumerata... Oh... Clamorosa i video su Whatsapp... Non esce più la... Quando uno ti fa il video... Che tutto il telefono ha il video... Sì... Volendo ti viene fuori un cerchietto... E tu parli dentro quel cerchietto lì... Beh ma... Ma... Non siamo emozionati... Come siete vecchi ragazzi... Arrivando da New York... Tutte stiamo... Come sono... No... Me l'ha mandato delle amici... Ah... Che vuoi quattro messaggi? Sì... O ce li centelliniamo per tutta la stagione? Ciao ragazzi... Ma non... Gli ero dimenticata di voi... Ma si può? Incredibile... Claudia... La Claudia ci ha dimenticato... Si era dimenticata di noi... Vabbè... Comunque è passata mezz'ora... E ancora non hai detto niente... Comunque... Chi sono io... Per dire a te... Quello che devi fare... Agiat... Agiat e Kito... E chi sono io... Grazie ragazzi... Fabio... Io ho letto... L'arte di amare... Di Eric Fromm... E l'ho finito ieri sera... Compiti... Come compiti... Prima di arrivare in classe... Volevo finirlo... Per essere pronta... Ciao da Simona... Pronta per cosa... Non ne parleremo... Non ne parleremo... Però abbiamo dato i compiti per l'estate... Allora ragazzi... Sì... Dimmi Maurizio... No c'era un ultimo messaggio... Scusa... Ciao... Sono Sandro... Bentornati amici del volo del mattino... Soprattutto Maurizio... Grazie Maurizio... Sei il mio preferito... Grazie Sandro... Ciao... Chissà perché questo... E dal telefono di Maurizio... L'abbiamo mandato noi... No... L'abbiamo mandato Viola... Vedi che ci sono degli ascoltatori... Che ci mandano il video cerchietto... Lì... Il video nel cerchietto... Oh ma che se ne frega... Ragazzi ma chi siamo noi per dirgli come fare i video... Esatto... Allora... Sì... Allora... Dobbiamo lanciare un po' il tema della stagione... Non di oggi... Cioè il senso... Diamo il senso... Come si dice... Quando tu presenti un progetto... L'azienda ha un concept... Di quest'anno... Oh ragazzi... Concept... Il concept di quest'anno è più o meno... Da vedere quanto dura il concept di quest'anno... Va bene... Il concept di quest'anno... Tanto arrivano le copertine del film Dante e Aristote... Comunque li stavo mandando in classifica a sto ragazzo... Certo... Ah vabbè... E scoprono che si piacciono... Anche loro quell'estate hanno fatto l'amore per la prima volta... Eh sì... Ah... Vabbè sono cose importanti da scoprire quelle... Allora... Vai... Eh... C'è qualcosa? Vai 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 vai... Mettiamo una base... Sì... Ok... Questo è il concept... È il concept... Della stagione 2020... Cos'è? Che cosa... Un professore... Un professore... Una domandina... Un professore entra in classe e dice... Una domandina... Un professore... Ho sentito un professore... Ah ci sono i vitiello adesso la mattina... Sì... Ha già rovinato tutto l'intervento... Si può fare dopo? No no... Siamo già a 4 minuti e 39... La vogliamo fare dopo? No no no... Senti qua... Faccio veloce... Allora... Un giorno un professore entra in classe e chiede agli studenti di prepararsi per un compito sorpresa... Leggi piano... Non è che i primi a cui gliel'hai dato... Quello già sa... Sì... Dice... Descrivete quello che vedete... Descrivete quello che vedete... Allora tutti si mettono lì... Ha già avuto... Finisce... Finisce l'ora... Alla fine il professore ritira i compiti e inizia a leggere ad altavoce uno per uno davanti alla classe e tutti gli studenti senza eccezione non avevano fatto altro che cercare di definire quel puntino sul foglio di colore, che colore era, dove era messo nel foglio, quanto distanza dall'angolo... E lui dice... Ragazzi non vi darò un voto per questo compito, era solo un esercizio... Cioè nessuno di voi, neanche uno, ha scritto niente a proposito della parte bianca del foglio... Vi siete tutti concentrati su quel puntino nero ed è esattamente quello che spesso facciamo nella vita... Insistiamo a concentrarci su quella cosina che ci dà fastidio, una cosa di salute, la mancanza di denaro, una relazione complicata in famiglia, la delusione per un amico... I puntini neri sono infinitamente più piccoli rispetto... a quello che abbiamo nella nostra vita, quindi dobbiamo essere grati, guardarci intorno e diciamo ok c'è quel puntino nero però io guarda quanta cosa che ho intorno meravigliosa... Cercate di distogliere lo sguardo dai puntini e godete di ogni momento che la vita vi riserva... Siate felici e vivete una vita piena d'amore. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Questo atto di arroganza nostro per rimettere subito a posto le cose, no? Che uno ride e scherza e poi poi invece la cattiveria salta fuori, capito? Quella che cerco di nascondere, no? Sono il più cattivo di tutti. Abbiamo ridato il nome alle cose, abbiamo risistemato tutto, tutto è tornato nell'ordine delle cose. Attenzione ragazzi. Io uso sempre questa metafora. Sai che sono due o tre anni che la voglio portare dalla grubera a otto e mezza questa metafora perché quello che voglio fare quando mi invita è riuscire a dire le cose del Volo del Mattino che però lì invece ho un salotto un po' più... Io le voglio dire, Lilli, le faccio una metafora perché poi alla fine ecco le metafore capiscono tutte. Oh Bersani ci ha fatto una carriera. Allora vorrei fare una metafora che sono qua a pettinare le bambole dice ok. Faccio una metafora, quando lei, quando lei Lilli, perché so che Lilli dice a dire, non devo fare l'esempio su di lei, quando io, vorrei portarla su me, quando noi, ecco già stiamo sul vago, poi chi sono io Lilli per dire a lei? Nessuno. A me è capitato, guardi a volte succede che certe persone, ecco stiamo sul vago così, certe persone a volte si sta dentro nel bagno e tu stai dentro nel bagno e fai quello che devi fare, quello proprio che fai, poi stai lì, ti lavi i denti e a un certo punto quell'aria viziata, non direi quell'odore di merda da lei ovviamente, direi quell'aria viziata non la senti più e dici ok, tutto sommato. Sai che dalla Lilli l'hai già fatta questa metafora e adesso te la ritrovo anche. L'ho detta? Davvero. Allora ho avuto il coraggio di tiro. Ma allora hai vant'anni. Non me lo ricordo. Però poi dopo esce un attimo dal bagno e poi dice ah ho dimenticato il telefono. torna indietro, entri nel bagno e fai wow, 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 che sto? Chi c'è sta? Chi c'è? E l'elefante dov'è? E l'elefante? C'è solo la... Ma che mi do? La stessa cosa, a volte si sta dentro per dei mesi, dentro una situazione e uno dice ma sai che è tutto sommato? Invece tu appena, poi fai una serata, esci con degli amici, vedi un tramonto, fai l'amore, una cosa che si apre quel lenzuolo lì, esce un secondo, poi ritorni e dici ma oh, 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 esatto. Quindi con questo lavoro del mattino abbiamo rimesso nell'ordine delle cose. Detto questo... Io ho dei messaggi. Volevo dire un'altra cosa. Certo. Che ci ha scritto un ascoltatore. Ah, vuoi mettere quella della libreria? Scusami. Ora vediamo se... Sentiamo dei messaggi. Sentiamo un secondo. Vai, vai, vai. Comunque c'è anche Aristotele e Dante si immergono nelle acque del mondo. Sono una libraia, ho questi libri, ne ho poche copie e adesso verranno tutti ad acquistarlo. Grazie a voi. Ok, voglio dire una cosa. Mi è nessun difficoltà. Allora, Dante... No, voglio solo dire una cosa che noi ci stiamo scherzando sopra, ma è un libro di formazione. È un libro di formazione per cui, lo dico agli ascoltatori, se avete dei figli adolescenti così, insomma, che devono affrontare questo tema che è soprattutto adesso pesantissimo perché siamo tornati indietro di 30 anni. Quindi è un libro di formazione sul proprio, diciamo, orientamento sessuale. In questo caso sono due ragazzi appunto che scoprono di essere omosessuali. Quindi è un libro di formazione, è un libro importante. Adesso noi abbiamo scherzato perché io pensavo di andare a vedere Dante che parlava delle stelle. Ok, detto questo abbiamo un altro messaggio? Abbiamo dei messaggi, però sono gli ultimi della stagione, quindi non so... Ah, vai, buttate dentro tutto ragazzi! Buongiorno caro Fabio. E sempre grazie di cuore per tutto. Dobbiamo veramente solo essere grati, esprimere infinita gratitudine per tutto quello che abbiamo che è sempre tantissimo. Solo amore per cambiare il mondo. Solo amore per cambiare il mondo. Indomine patria, spiritus morbosus, dios, madre, nepotes. E' su, e' giù, e' giù. Questo è il podcast del volo del mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Ah, io il messaggio di Luca lo metterei, Viola. Prima che chiudiamo i messaggi vocali per la stagione. Oh, Fabio, buongiorno. Ma, volevo dire una cosa, ma è possibile che io abbia un punto bianco sul foglio nero? No, perché io tutto sto carnevale di Rio non lo vedo. Quale carnevale di Rio? No, ricordo di qui essere grato, lui dice, secondo me c'è un puntino bianco. Aspetta! No, no, no. Vedrai, a giugno. Le cose non sono... Cosa stai? No, ci vorrei trovare un'altra storia da raccontarvi. Raccontarvi, era ricco domani a sto punto. Però il tema di questa storia che vi racconterò è che le cose non si vedono per ciò che sono, ma per ciò che sei. Quindi ognuno di noi vede la realtà in base a ciò che è. Anche questo raccontava per i quattro volte. Esatto, però ho la storia dove ho praticamente quasi aggredito uno per i miei occhiali da sole. Vabbè, ma a domani. Prendetelo voi e croficite. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Grazie a tutti